No, mi stai simpatica! Ciao Marta! Ciao! Stai bene? Sì! Ma sei sicura che puoi? Sì! Hai chiesto? Mi raccomando, con calma, non saltare eventualmente. Solo lei e magari anche la Natalia. La Marta e la Natalia sono dispensate, ma solo loro. Quattro. Tre. Due. Uno. Passo contato. E giriamo una spalla da una parte e dall'altra. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Stavamo dicendo, fatica tanta, per te no. Fatica poca. Pochissima. Un brazzo e l'altro. Non riesco a girare con questa vita troppo larga. Giro. Giro. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Stop. Incrocio. 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 E intanto spingo, maggiorni dietro le braccia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. 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 Otto. E apro. Chiudo. Sempre incrociando. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Incrocio di più. E più lentamente. Incrocio. Incrocio. Più lungo l'incrocio. Due. E. Tre. E. Quattro. E. Cinque. E. Sei. E. Sette. E. Otto. Stop. Punto. Avanti e dietro. Come se ballassi il charleston. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque. Un. Sei. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Cambio. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei. O. O. Sei. Sei. C. Cinque. Quattro. Tre. Due. Cambio. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. O. O. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Cambio. E. Qui. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Con le braccia. Sette. Otto. Così si scattano anche loro. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E. Cambio. Questa volta. Su. Giù. Skater. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. Ancora. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Cambio. Qui. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. Otto. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Gli ultimi. Sedici. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. O. O. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Cambio. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. O. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Come va? Ci sono scaldati? Sì. Aspettiamo la chicca. A posto? Bene. Uno squat. Semplice. Semplice. E. Dietro. Squat. Dietro. È una spinta. È indietro. Su. Due. Spingo. Ok? Vado. Uno. Due. Scaldro la chicca che non ha iniziato fin quando non ha iniziato a contare. Che non ha iniziato fin quando non ha iniziato a contare. E adesso sta contando. Otto. Queste vacanze le hanno fatto bene. Sette. Sette. Sei. Cinque. Concentratissimo. Tre. Anzi tre. Due. E uno. Cambio. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei. O. O. Sette. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Come va? Benissimo. Usiamo i pesetti. Alterniamo braccia e gambe. tre. Tre. Quattro. Tre. Due. Qui. Press up. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Usare braccia e gambe si fa una fatica indegna Anche se l'esercizio di per sé non è faticoso si fa ancora più fatica Perché prima usiamo le braccia e poi le gambe viceversa Scendo qui, stanco 8, 2, 3, 4, 5, 6, spingo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio Indietro è 2, spingo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Piego i pisetti solo da una parte all'altra Flessione laterale del busto 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gli ultimi 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Teniamo un pesetto, guardiamo un pochettino di più le gambe Plessione laterale del busto Plesso e allungo Plesso e allungo, piano piano eh Perché due chili sono pesanti per questo esercizio 3, 4, tenete gli addominali 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Riprendo il pesetto laterato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. L'ultimo, prendiamo il peso, fletto e allungo, 1, qui, 2, 3, 4, piano, 5, 6, 7, 8, cambio, 8, 7, 6, 1, giro, 5, 4, 3, 2, 1. E 1, stop, appoggiate bene. Saltiamo un po', saltelliamo un po'. Da qui, tocco le caviglie e scendo, scendo, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attenzione Marta, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tutto bene? Sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Una serie ancora. Da qui, 4, 5, 6, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutto bene? Tutto bene? Sì. 4, 3, 2, 1, la, marionetta. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Cammino in avanti, push up, torno indietro. Da qui, cammino. Push up. Su. E ritorno. Giro le spalle. Ok. Se è troppo faticoso, tappetino, appoggio. Su. Ritorno. Qui. Ora, non deve essere sempre faticoso per tutti, però, eh. Non è che vi ho svelato l'arcano e tutti lo utilizzate. Vado. Solo 8. Push up. Su. Torno. Qui. Scendo. Push up. Qui. Vado per il terzo. E vado per il quarto. Eh. Quattro. Quattro. E il quinto. Con calma, eh. Non ci segue nessuno. Cinque. E il sesto. Sei. Il settimo. Siamo stati bravissime. Sette. Ruttavo? No! Non ti puoi appoggiare l'ottavo, eh. Su, via. Sette. E otto. Passo e chiudo. Ti sei appoggiata? Streccio i pettorali. Quattro. Tre. Due. E uno. Ora facciamo. Jumping jacks. La. Calcio. Jumping jacks. Calcio. Jumping jacks. Calcio. Jumping jacks. Calcio. O. Qui. Qui. Due. Qui. Tre. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sette. Sette. Ancora. Otto. Sette. Fai solo jumping jacks, Natalia. Cinque. Quattro. Tre. Due. Come? Uno. Questa. Questa. Che erano meno faticosi dei jumping jacks normale. Avevamo quel calcio che interrompeva. No? Sette. Apri e chiudo. Quattro. Tre. Due. E uno. Prendo. Allora. Ci incliniamo un po' in questo modo. E. Precipiti. Sette. Due. Tre. Sono molto faticosi. Mi sta venendo un trampo. Per niente. Quattro. Sei. Sette. O. E ancora. O. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Cambio gamba. Intanto streccio. Sembrava una variante no, qua invece no. Appoggio. Salgo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stretch. È un simpatico esercizio. Da tenere in considerazione per le prossime puntate. Stretch. I pettorali. Poco poco. Già che siamo qui. Due glutei. Poi ci rialziamo ancora. Però già che siamo qui. Sarebbe un peccato no? Hai fatto glutei in vacanza? No. Va bene. Allora. La chicca ha detto che possiamo esagerare. perché li ha tenuti allenati durante le vacanze. Questo mi pareva avesse detto. Dai. Spingo. Su. Uno. Due. Tre. Quattro. Prima tutta la gamba e poi tutta l'altra. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Tre. Due. Uno. Calci laterali. Ma proprio calci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Calci dietro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. O. O. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Un calcio lato e un calcio dietro. O. E. Due. Dietro. Tre. Dietro. Quattro. Dietro. Cinque. Dietro. Sei. Dietro. Sette. Dietro. O. Dietro. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Non mi parte. Non serve riposare eh. Sette. Perché l'altra gamba non ha lavorato. Ha fatto finta. Ha fatto finta di lavorare. Due. Ha dato un supporto morale. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Calci laterali. Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Otto. 4, 3, 2, calci dietro, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, calcio calci, calcio calcio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, allungo, come va? Benissimo, schiena a terra, gambe in alto, braccia larghe, schiena aderente al terreno, sforbiciate, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, mi fermo, tengo una gamba, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, addominali contratti, 8, cambio, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, alterno, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, mi fermo, mi fermo, qui, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Appoggio i piedi a terra, crunch, solo crunch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 9, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 50, stop! ginocchia al petto, rilasso un salto, mi giro e streccio, gli addominali, qui, su, com'è? Tutto bene? Ok, ritorniamo in piedi, abbiamo recuperato? Possiamo riprendere quei jumping jacks e il calcio, mi piaceva un salto, Greta no, allora quando fate troppa fatica, Natalia, così, ok, solo così va bene, senza saltare, ok, anche tu Marta, se fai troppo fatica, tu Greta no, 4, 3, 2 e 1, pronti? Vado, su, 1, calcio, calcio, gambe in alto, calcio forte, 2 e 1, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, 8, qui, qui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, oh no, ancora uno prendiamo il fizetti alzata frontale piego giro su, qui ritorno in, dietro ok? solo otto vado otto qui giro su giro due su avanti piego giro salto scendo giro stendo lì 4 e giro stendo e giro stendo 5 piego giro stendo piego giro stendo scendo 6 6 giro stendo qui giro stendo giù 7 piego giro stendo e rigiro stendo lì 8 8 qui piego giro stendo qui rigiro stendo e giù 1 2 cosa c'è la chicca cosa c'è quindi adesso il secondo lo fai col 2 riusciamo a farmi ancora 8 Greta lavori questa sera no ma figurati se fai cadere cosa vuoi far cadere dai 8 solo 8 ispiro ispiro e vado 1 piego giro salgo scendo giro stendo giù 2 piego giro su scendo giro stendo lì 3 piego sta ridendo perché sto dicendo tutte queste cose 4 piego giro giro 5 non lo so 6 su ci sono ancora 2 qui questo è il settimo e l'ottavo qui piego giro su qui è giusto scendo sì ma tu perché devi far cadere i ferri ma sì ma non è vero per questi 4 braccia che faccio fare 4 3 2 e 1 stop che ne dite se riprendiamo il nostro però abbinandolo al burpee quindi quindi da qui appoggio lì qui Marta no solo 8 Natalia no proviamo qualcosa allora Natalia e Marta faccio solo li fai attenzione no no chicca lei arriva da una convalescenza tu no tu arrivi dalla settimana bianca quindi nessuna pietà 8 solo 8 iniziamo con il piegamento con dietro vado qui vieni qui poi appoggio vieni qui su e 3 4 5 6 7 8 vero che sono divertentissimi 1 3 2 e 1 questa sera ci sono mancati gli affondi dovremmo farli li possiamo fare si facciamo ancora 8 burpee e poi ci aggiungiamo la flessione vi faccio vedere potete truffare allora appoggio qui pie su qui possiamo c'è un piegamento sulle braccia 1 dai se volete potete appoggiare le ginocchia ve lo faccio vedere la versione semplice arrivo qui appoggio le ginocchia piedi su salto e facciamo dai già che era bello ti divertivi andiamo appoggio qui piedi su qui ora giù qui piedi su e due qui piedi su e tre qui piedi su e quattro qui piedi su e cinque e qui mi fermo intanto che aspettiamo la chicca dovete bere dietro qui quattro cinque sette sette otto otto sette sette cinque quattro tre due e uno passo chiudo braccio morbide qui due tre quattro cinque sei volete barattare gli affondi sette li barattiamo va bene un esercizio a terra magari volete va bene esercizio a terra ricordatevi che a cavallo barattato non si guarda in bocca allora da qui salgo salgo scendo scendo ok rigide come un paletto ne facciamo per comodità otto da una parte allunghiamo la colonna otto dall'altra otto sempre uguali no? da così salgo sempre e scendo sempre salgo sempre ok saranno molto faticosi quindi mi hanno detto otto otto quattro uno due tre quattro cinque sei sette otto avete sentito che lavoravano anche gli addomiani scendo scendo 2, 2, scendo, scendo, tre, tre, scendo, scendo, quattro, quattro, scendo, scendo, cinque, scendo, scendo, sei, sei, scendo, scendo, sette, sette, scendo, scendo, otto, otto, scendo, scendo. bene ci rimettiamo comodamente schede a terra prendiamo i nostri due bei colbetti qui gambe lunghe addominali completi quindi da qui salgo porto il petto e scendo mantenendo la discesa i soliti qui scendo giù qui scendo lì qui qui scendo quattro qui scendo cin qui scendo sei qui scendo qui scendo qui e scendo ne facciamo ancora otto sette sei cinque quattro tre tre due e uno stop come va come va benissimo siete sicure possiamo fare un altro esercizio carino ma come siete brave questa sera faticoso bene ci rigiriamo nuovamente spostate spostate i pesi che se no danno fastidio rimango ok addominali tesissimi ok metà esometria metà invece movimento e poi chiaramente ritorno indietro cammino cammino ritorno indietro cammino cammino e ritorno indietro uno da una parte e uno dall'altra è divertentissimo sembriamo dei ragnè giù quei glutei giù i glutei giù 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 e cammino mi giro cammino tre quattro cinque sei sette torno dietro 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 qui cambio parte uno due tre quattro cinque sei sette otto torno uno due tre e quattro e allungo ricordatevi quando siete di lato fermatevi dovreste sentire tutti gli addominali tirare vi sentite? bene andiamo qui va uno due tre e quattro cinque sei sette e otto torno uno due tre quattro uno due tre quattro cinque sei sette torno uno due tre quattro e è divertentissimo non vi piace? ne facciamo ancora ne facciamo ancora uno due due dai facciamo pari qui vanno otto due tre quattro cinque sei sette torno uno due tre quattro e vado uno due tre quattro uno due tre torno uno due tre quattro e all'inno l'ultima qui vado uno due tre quattro cinque sei sette torno uno due tre quattro torno uno due tre quattro cinque sei sette torno uno due tre quattro e allungo schiena terra mani sotto i glutei apri e chiudo otto due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due e incrocio apro incrocio incrocio apro due tre tre quattro cinque sei sette otto otto sette tre sei cinque quattro tre due uno apri e chiudi i dannali uno due tre quattro cinque sette otto 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 sette sei cinque quattro tre due incroci uno due tre tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due e uno stop ginocchia al petto appoggio i piedi a terra piede contro piede stretcio l'interno coscia ok appoggio ancora i piedi a terra incrocio gamba destra sopra gamba sinistra scendo a sinistra a destra mantengo le spalle a terra e giro la testa a destra centro scrocio incrocio gamba sinistra sopra la gamba destra scendo a destra piano 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 e testa a sinistra e testa a sinistra centro scrocio scendo ginocchio al petto dondolo piano piano mi siedo qui come va? da qui mi siedo sui piedi aumento il petto srotolo pian pianino la colonna e un po' di spada respirone su e giù ancora una su e puntato di giù bravo bravo guadiglio la mia Grazie.